Non distruggete la Casa Bianca, è l'appello simpaticamente rivolto dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, componenti ormai sessantenni dei leggendari Led Zeppelin insigniti a Washington del premio John Fitzgerald Kennedy Center. Questi ragazzi, ha detto Obama, hanno ridefinito lo stile della vita rock and roll. Ai tempi in cui dominavano le scene ci sono state diverse camere di albergo saccheggiate e distrutte. Per questo abbiamo organizzato la cerimonia in questa sala dotata di vetri spessi 10 centimetri e agenti di servizi segreti in ogni angolo. Per cui ragazzi state calmi, questi quadri valgono un patrimonio.